Solo due settimane fa pareva che i sindacati del comparto scuola fossero pronti a scendere in piazza e a manifestare per avere risorse adeguate per aumenti stipendiali dignitosi. Ma mano a mano che il dibattito sulla legge di bilancio prosegue, i sindacati sembrano perdere smalto. Nella giornata di mercoledì 20 si sono svolti a Roma i direttivi unitari dei cinque sindacati del comparto. Ci si aspettava la proclamazione dello Stato di mobilitazione o almeno l'annuncio di qualche iniziativa eclatante e invece anche il comunicato di fine giornata è abbastanza tiepido. Certo, si parla di investimenti scarsi nella scuola che determinano una non più tollerabile perdita di prestigio professionale per chi lavora in settori che sono invece di importanza strategica per il Paese e si ribadisce anche che per il giusto riconoscimento professionale di tutto il personale è indispensabile il rinnovo del contratto per il quale vanno individuate subito le risorse necessarie, ancora ben lontane dall'aumento a tre cifre promesso. Così come si continua a ripetere anche il mantra della necessità di proseguire nel confronto con Palazzo Chigi per ottenere il rispetto degli accordi sottoscritti col governo in carica e con quello precedente. Ricordiamo che si tratta di accordi stipulati addirittura il 24 di aprile, cioè sette mesi fa. Forse i sindacati si rendono conto che in questa fase ci sono tante troppe criticità e probabilmente l'opinione pubblica mal sopporterebbe una protesta dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione, mentre a Taranto e non solo si stanno consumando drammi di dimensioni maggiori. Resta il fatto che ad oggi le risorse stanziate nella legge di bilancio per il contratto scuola sono davvero modeste. In una nostra simulazione abbiamo provato a capire come potrebbero cambiare gli stipendi dei docenti. L'ipotesi minima, lo vedete in questa slide, è calcolata sul 2,5% di aumento, quella massima sul 3%. Le cifre ovviamente sono al lordo e mettono in evidenza la modestia degli aumenti probabili peraltro. E se li si riporta al netto mensile si parla di poche decine di euro, senza considerare poi che lo stanziamento previsto non consentirà neppure di erogare gli arretrati per il 2019. Il fatto è che a questo punto non ci sono più i tempi per proclamare uno sciopero che possa in qualche modo convincere il governo a cambiare un po' la rotta sulle politiche scolastiche e non resta quindi che affidarsi alla buona volontà della politica e dei parlamentari che dovranno approvare la legge finanziaria nelle prossime settimane. Sul tema ovviamente noi ci torneremo, quindi continuate a seguirci sia su questo canale che nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it, leggeteci ma soprattutto scriveteci e mandate i vostri commenti, ne daremo conto come sempre. Grazie a tutti.